I residenti in via Pescara a Sulmona ci hanno segnalato un inconveniente in quella strada. Proprio all'inizio di via Pescara c'è una griglia per l'eliminazione dell'acqua piovana. Purtroppo la griglia, forse per l'usura ed il continuo transito delle auto, produce rumore proprio al passaggio di ogni auto. Il problema crea disagio maggiormente nelle ore notturne deputate al sonno. Anche di notte, in quel punto, in verità il transito delle auto è continuo. La griglia fa un rumore, specialmente di notte, non si riesce a punire chi abita qui nel posto, dopo aver chiesto tante volte, se lo vogliono fare lo fanno, se no dobbiamo subire. E' noioso, è tanto tempo. Per la notte soprattutto. Certo, certo, è un problema proprio. Poi il transito è continuo su questa strada, è una strada importante. Certo, qua non siamo in giro le macchine. Da fastidio di giorni, perché andiamo a scendere. Certo, qua non siamo in giro le macchine. Certo. Certo.